benvenuti al nostro peri teams ciao silvio ciao erene il nostro ospite oggi simone frigerio ciao simone benvenuto ciao erene ciao silvio simone bentornato con te come al solito parliamo di sicurezza in ambito microsoft e non solo e l'argomento di oggi è qualcosa che abbiamo già un pochettino trattato ma che finalmente oggi riusciamo a vedere un po meglio riusciamo a fare un deep dive ed è microsoft sentinel o come si chiamava fino a un po di tempo fa azure sentinel quello che il cm di di casa microsoft per la gestione dell'infrastruttura con te vorremmo innanzitutto fare un passo indietro per spiegare che cos'è un cm l'importanza di un cm all'interno dell'azienda e poi di vedere assieme microsoft sentinel e le sue funzionalità più importanti perché altrimenti questo per i teams dovrebbe durare quattro ore esatto esatto molto bene intanto ti ringrazio molto per avermi invitato e per permettermi di parlare di uno dei prodotti che io preferisco in assoluto della nostra suite che è appunto microsoft sentinel rinominato da poco prima si chiamava azure sentinel comunque sempre molto riconoscibile che cos'è sentinel così almeno evitiamo fraintendimenti ma fondamentalmente sentinel è il primo è stato proprio il primo cm cloud native quindi abbiamo la possibilità di utilizzare tutte le risorse che sono messe a disposizione all'interno di azure e sfruttare la potenza proprio di azure per andare a cercare quelle che sono eventuali minacce all'interno della mia infrastruttura ma sono già andato un attimino avanti facciamo un passettino indietro ancora restiamo sul cm l'acronimo cm che cosa significa security incident event manager quindi è un sistema che mi dà la possibilità di raccogliere tutta una serie di eventi provenienti dai miei dispositivi di infrastrutturali o dai miei server ma anche dal mondo on cloud perché oramai dobbiamo pensare che il perimetro è anche il cloud e anche il cloud ai suoi log che devono necessariamente essere raccolti e poi correlati insieme per far sì che mi vengano restituiti sotto forma di allarme o comunque di dato che mi permetta che mi dice qualcosa detto magari un po' più volgarmente l'altra l'altro vantaggio che ha appunto sentinel è quello di utilizzare alcuni moduli nativi proprio di azure e quando parlo di moduli nativi di azure parlo dell'intelligenza artificiale ma la possibilità anche di utilizzare la parte di machine learning quindi i nostri ricercatori che cosa hanno fatto beh innanzitutto hanno fatto un grandissimo lavoro e stanno continuando a fare un grandissimo lavoro con lo sviluppo di quello che è l'intelligenza artificiale e la stanno via via affinando con qualcosa come pensate che raccogliamo più di tre peta di segnali al mese peta siamo oramai nell'ordine di dimensioni pazzesche e tutti questi segnali ci permettono di allenare di far sì che la nostra intelligenza impari ogni giorno le più recenti tipologie di attacco questo tipologia di intelligenza artificiale viene inserita nativamente all'interno di sentinel perché sentinel come vi dicevo è il primo cm as a service quindi è disponibile come servizio quindi non ho più la necessità di comprarmi infrastrutture non ho più la necessità di preoccuparmi dell'architettura e del dimensionamento dello spazio disco perché essendo principalmente un raccoglitore di log e successivamente poi sul quale vengono fatte le analisi è evidente che ho bisogno di tantissimo spazio disco per poter raccogliere questi tipi di informazioni di spazio che poi cresce a seconda dei servizi che voglio andare a collezionare soprattutto della retention perché se ho bisogno di poter fare analisi nel lungo periodo è chiaro che dovrò andare a immagazzinare dati per tanto tempo e se c'è una specie di rapporto di moltiplicazione se ho tanti server tanti servizi che devono inviare dati e li devo collezionare per tanto tempo automaticamente questo spazio cresce in modo incontrollato e il fatto di avere una piattaforma cloud dà la scalabilità necessaria per poter rispondere proattivamente a queste cose perché poi se ci pensiamo farlo on premises ci sono software che lo fanno lo fanno benissimo però se poi la mia mole di dati cresce in un modo pazzesco io devo correre dietro con lo storage storage che poi una volta l'ho comprato me lo tengo non è che ora non mi serve più difficilmente che nel mondo cloud è chiaro che se sono arrivato a 100 giga al mese posso fare del tuning difficilmente però da questo tuning arrivo a 30 30 giga a meno che non hai proprio cannato l'ingestion del dato e inizi a collezionare tutto l'impossibile quello ci può anche stare in una fase iniziale ci può stare sì e un'altra cosa davvero molto importante e che mi hai proprio ricordato in questo momento è che passiamo proprio in un modo in un'epoca completamente nuova per quelli che sono i SOC team quindi SOC è un altro acronimo che significa security operation center sono quei centri di sicurezza che si preoccupano di controllare appunto i CM proprio oggi parlavo con un cliente il quale mi diceva che mi chiedeva se doveva ripristinare i vecchi log lo storico praticamente l'archivio storico come faceva come fa lui adesso per i dati più vecchi di x anni e gli ho detto guarda con sentinel questa cosa non ne hai bisogno perché tu potenzialmente ti puoi fa applicare una retention su degli storage di bassissimo valore di bassissimo pregio ma sempre disponibili online quindi tu hai la possibilità di usare le risorse che sono già disponibili all'interno di sentinel quindi sono degli oggetti parlo ad esempio della risorsa meno performante in questo momento che è lo storage account dove noi possiamo andare a depositare banalmente i nostri dati fino ad arrivare agli cluster adx di azure data explorer fino ad arrivare in ultimo al nostro log analytics workspace sulla quale è stato costruito è stata applicata la soluzione di sicurezza sentinel log analytics workspace è un database è assimilabile ad un database all'interno del quale ad alte performance all'interno del quale possiamo fare tutte delle analisi e delle relative correlazioni direi di vederlo a questo punto direi di fare fare un pochettino la soluzione certo volentieri allora ditemi quando vediamo quando state vedendo perfetto allora se noi andiamo all'interno del nostro senti all'interno del nostro esur possiamo cercare direttamente per esur senti nel io ovviamente lavorandoci molto frequentemente ce l'ho nei recent service disponibili cliccando sul mio recent service seleziono quello che è il mio workspace che sono andato a creare in precedenza e mi si apre il mio sentinel quindi la mia interfaccia che cosa trovo all'interno della mia interfaccia e quindi del mio della mia overview ma innanzitutto un andamento di quello che è lo stato di inserimento dei miei dati e lo stato dei miei allarmi che poi vedremo come possono essere fatti è una brevissimo pannello che mi dà la possibilità di vedere quelli che sono gli ultimi incidenti che sono stati generati proprio dallo strumento ma anche da tutti i prodotti di sicurezza di microsoft e anche lì adesso datemi un minuto e vi porto a vedere nel dettaglio come andiamo a configurare questo prodotto e poi abbiamo anche una mappa a livello mondiale che mi dà la possibilità di vedere quali sono i segnali che ho ricevuto all'interno di sentinel e che sono già etichettati come malevoli quindi cliccandoci mi porta poi all'interno del mio database con tutta la mia query specifica che mi porta all'evento malevolo e al dettaglio del mio evento malevolo tralasciamo un attimino la query che ci sta dietro le quinte lasciatemi dire se avete un po di esperienza o se in passato avete avuto modo di giocare con quello che era SQL server e la console di SQL server management console ecco questa interfaccia è veramente molto 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 simile a quella che è la SQL server management console quindi sulla sinistra abbiamo tutti i database o comunque tutte le tabelle in alto a destra abbiamo la possibilità di scrivere quella che è la nostra query ed eseguirla direttamente con il tasto run e subito sotto ho la possibilità di vedere il dettaglio dei miei risultati e quindi entrare poi se voglio nel dettaglio torniamo un passettino indietro già che c'ero vi ho fatto vedere anche un po l'interfaccia e quello che c'è dietro le quinte all'interno di sentine uno dei primi step supponiamo il caso che io sono nuovo non ho mai visto niente voglio iniziare ad utilizzare sentine beh la procedura è davvero molto facile posso andare direttamente in quello che è il mio news and guide e cliccare sul get started e automaticamente mi dà già una guida indicativa ovviamente di quello che devo fare e di quali sono i miei i miei step quindi il primo step ovviamente devo collezionare i dati perché un siem senza dati non è un siem non possiamo fare nessun tipo di analisi quindi io basta che clicco su connect e come vedete mi porta nella sezione dei data connector data connector come potete vedere microsoft i nostri sviluppatori il nostro team ha sviluppato qualcosa come più di 120 connettori disponibili e ne ha proprio appena ne sta rilasciando in questi giorni è stato annunciato durante l'ultimo ignite ulteriori altri 30 connettori disponibili alcuni di questi come vedete sono ancora in preview però parliamo di connettori terze parti anche non solo di prodotti microsoft e tra l'altro connettori che riguardano sia applicativi ma riguardano anche networking corretto sì applica e connettori che riguardano diciamo un po tutto adesso io ve lo sto facendo vedere piano piano stiamo scorrendo insieme i connettori che sono disponibili al di là del fatto dei connettori più ovvi quelli ovviamente che sono integrabili quasi nativamente all'interno di sentine per il mondo di esure ma andiamo a cercare per esempio un sisco asa quindi qui abbiamo un apparato di rete che non ha niente a che fare apparentemente con il mondo cloud ma ho la possibilità anche qua di portarmi i miei log direttamente all'interno di sentine e fare le mie opportune analisi giusto per fare visto che ne stiamo parlando e l'ho accennato dei connettori uno dei connettori disponibili e che sono stati rilasciati proprio durante l'ultimo ignite parliamo di sisco meraki questo era uno dei connettori veramente è molto richiesto tra l'altro vabbè giusto per dare una veloce panoramica alcuni connettori sono diretti altri richiedono un intermezzo di un di un syslog che colleziona il dato e che lo manda verso sentinel per poter potersi interfacciare cosa che dà una scalabilità di un certo tipo esatto silvio diciamo che dietro sentinel la possibilità di inserire i dati all'interno del database è fattibile praticamente nel 99 per cento nel 100 per cento dei casi attraverso quelle che sono le API quindi le application program interface disponibili nativamente proprio dal prodotto poi siccome non tutti siamo programmatori siccome per chi come me è un po' lesi e non ha voglia diciamo di andare a configurarsi ogni dettaglio e a spaccare il bit di ogni singolo applicativo sono state fatte delle interfacce che semplificano drasticamente la configurazione del prodotto quindi banalmente se io voglio eh portarmi quelli che sono per esempio i log del mio Azure Active Directory eh non devo reinventarmi programmatore di API basta che entro nel connettore come vi ho fatto vedere in questo momento ho cliccato in basso a destra eh nella sezione di open connector page e mi mi viene fornito quella che è tutte quelle che sono tutte le istruzioni quindi è un wizard ovviamente non abbiamo più il nostro wizard tradizionale di Windows dove io lanciavo setup e seguivo tutti i vari passaggi per poter installare l'applicativo questa volta l'abbiamo grazie al al web quindi avremo un wizard web based che mi da già tutte le mie informazioni necessarie del tipo devo avere i permessi di lettura e scrittura all'interno del workspace devo avere le autorizzazioni di lettura e scrittura su quelle che sono i diagnostic setting e ho già un pre check che mi viene verificato real time se ho tutti i permessi per poter fare questo tipo di attività una volta che tutti questi permessi sono stati e tutti questi check sono passati quindi avrò un'icona verde potrò iniziare a configurare mettendo dei semplici flag tutta la mia parte di log di sentine quindi iniziare a far arrivare gli azure activity log eh per i primi i più famosi sono ovviamente i segni log ma anche quelli che sono ancora al momento in preview ma disponibili quelli che sono ad esempio i rischi user oppure eh i rischi user event clicco sul tasto apply e da lì a pochi minuti inizieranno a confluire i dati all'interno di sentine certo e una volta fatto questo poi si passa alla parte di dashboard perché chiaramente questo è il collezionare il dato cioè abilitare il fatto di memorizzare dei dati ma poi si passa alla parte grafica che è uno dei valori aggiunti perfetto Silvio è proprio lì che volevo arrivare ritorniamo al discorso del wizard quindi eravamo siamo entrati nella sezione dove mi indicava quali sono i passaggi che io devo fare quindi il primo è il collezionamento del dato la secondo passaggio è l'attivazione delle analytics e il terzo passaggio è eventualmente l'automazione nel momento in cui io sono entrato nel mio connettore in questo caso di Azure Active Directory ho anche la possibilità di avere il tab next step quindi dopo che ho fatto tutto e ho attivato i dati stanno cominciando ad arrivare e li vedo da questo grafico che ho esattamente qua sulla sinistra che cos'altro posso fare posso andare ad attivare quelli che sono proprio i workbook che sono dei fogli di lavoro con all'interno dei grafici che mi danno appunto quel valore aggiunto di cui tu stavi parlando proprio in questo momento ma non solo oltre che attivare i miei workbook posso scendere e pensare anche di iniziare ad attivare per esempio quelle che sono delle regole di detection e quindi non so questa è una regola di detection che è stata sviluppata sempre all'interno dei Microsoft Research che fa una verifica per quelli che sono gli indirizzi noti di un gruppo di attivisti di hacker attivisti che sono stati raggruppati all'interno del nome Barium che provengono sempre i loro attacchi attraverso questi indirizzi IP quindi se io vado a vedere faccio un create rule mi permette anche qui sempre tramite il wizard di preconfigurare una regola direttamente da un template e quindi posso fare posso inserire tutte le mie specifiche definisco quella che è la tactics del Mitre Framework la mia severity e poi successivamente ho già all'interno la lista precompilata di tutti gli indirizzi IP che sono stati rilevati malevoli e dai quali provengono principalmente gli attacchi da questo noto gruppo di attivisti quindi poi successivamente vado a mappare le mie entità e arrivo poi a eseguire questa query secondo un determinato periodo, secondo una determinata pianificazione quando il risultato supera il mio valore di zero a quel punto lì inizzerà a generarmi un allarme e quindi poi di conseguenza un incident all'interno del mio Sentinel e tutto questo senza aver fatto ancora niente a mano, è tutto un avanti avanti fine è tutto avanti avanti fine è chiaro che il tuning è una cosa che può avvenire in un secondo momento però il concetto di fondo è che tutto quello che stai facendo tu adesso non ha richiesto nessuna conoscenza se così vogliamo dire, né dello strumento né tanto meno di quali sono i criteri per andarsi a difendere da certi attacchi perché è una regola già creata, già pronta esatto, una regola già creata alla quale poi posso collegare anche quella parte di automazione perché voglio ricordarvelo che Sentinel è anche uno dei primi CM con funzionalità anche SOAR altro acronimo molto utilizzato che significa Security Orchestrator Automation and Response quindi ho la possibilità di automatizzare un determinato allarme che mi viene triggerato che mi viene identificato dal mio Sentinel e fare una specifica automazione che tipo di automazione posso fare? le più disparate, le più comuni, le prime che mi vengono in mente potrebbe essere quella di mandarmi una mail oppure di mandarmi un messaggio all'interno di Teams e quindi ho il mio Teams Channel disponibile e i miei colleghi sono pronti, allerta e controllano quel tipo di canale facciamo un altro esempio che mi avevi fatto tu tanto tempo fa io ho il mio server web FTP esposto pubblicamente ricevo magari collegato con Azure Firewall quindi protetto da Azure Firewall continuo a ricevere delle chiamate di potenziali attacchi da un certo indirizzo IP il sistema di remediation di Sentinel può fare in modo di creare una blacklist per questo indirizzo in modo tale da killare direttamente la connessione e evitare che addirittura raggiunga il server si vado a creare poi vado a creare quella che è l'automazione e seguendo sempre il tuo esempio che potrebbe essere davvero molto interessante cosa faccio? prendo l'indirizzo IP lo metto all'interno di questa lista e questa lista è già configurata automaticamente all'interno della mia regola del mio firewall e quindi così automaticamente il mio indirizzo IP va in drop e poi posso decidere dopo tot tempo se non ho più quel tipo di allarme di rimettere in allo sempre lo stesso indirizzo IP quindi questo per evitare di andare a saturare il nostro firewall con regole magari inutili ma un esempio ancora più facile Silvio è quello di ho un'identità che ha fatto quello che viene chiamato un viaggio impossibile detto in italiano quindi un impossible travel si è autenticato da Milano e poi dopo meno di un minuto si è autenticato da Singapore oppure da Sydney e quindi in poco tempo questa identità si sta autenticando da tutte le parti del mondo ma è evidente che c'è qualcosa che non sta funzionando questo è anche a volte un segno di compromissione dell'account stesso quindi grazie ad esempio a quello che è il nostro Azure AD Identity Protection lui dietro le quinte va a fare tutta un'analisi di queste tipologie di sign-in e mi può segnalare che l'utente ha un rischio quindi viene catalogato come utente a rischio in modalità AIG posso collegare questa severity e questo alert che ricevo direttamente dal prodotto Microsoft Azure AD Identity Protection e far scattare il blocco dell'account per esempio in questo modo io comunque sto proteggendo l'identità dell'utente ancora più in maniera granulare se ho un altro piano un po' più avanzato di Active Directory posso addirittura fare intervenire quelle che sono le mie Conditional Access Policy basandomi sul rischio dell'utente e posso revocare le sessioni e richiedere ulteriormente la verifica tramite MFA dell'utente sì, certo, certo, sì in effetti ci sono davvero tantissime opzioni siccome abbiamo pochi minuti a disposizione ci fai vedere rapidamente la parte di incident e poi posso capochiudere? sì, 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 velocissimamente dopo che ho generato, che abbiamo creato con il Wizard Analytics nel momento in cui un Analytics è triggera quindi identifica una minaccia e quindi identifica una determinata anomalia all'interno del mio database vengono generati quelli che sono, come potete vedere qui, degli incident gli incident, la severity e quant'altro le ho definite all'interno dell'Analytics quindi vado a prendermi quello che è un esempio di una Potential Malicious Activity entro nel dettaglio quindi senti e mi dà la possibilità di vedere il dettaglio dell'Alert quali sono le mie entity coinvolte quindi in questo caso qua è solo il mio indirizzo IP e ho la possibilità anche di collaborare con i miei colleghi io inizio a fare una prima parte di investigazione lascio un commento Silvio arriva dice, ah Simone ha fatto questo vado avanti da questo punto e poi ho l'ultimo passaggio che è quello di poter fare l'investigazione visuale e quindi sulla base di quello che è il mio potenziale alle arme con il mio indirizzo IP posso andare in drill down a verificare se questo indirizzo IP è già stato visto all'interno del mio database e vedete che lo fa da solo perché mi sta dicendo guarda, a questo indirizzo IP collegato ad una Potential Malicious Activity ci sono collegati altri 236 alert ma aspetta, fammi vedere che cosa c'è all'interno di questi 236 mi dice che ce ne sono esattamente altre entità molto simili con delle entità coinvolte aggiuntive e qui per esempio ho un altro indirizzo IP e quindi posso andare avanti nella mia investigazione visuale e tra un po' voi potreste dirmi eh ma tra un po' non si capisce più niente ma qui ci viene in aiuto il pannello laterale di timeline e quindi posso andare a prendere quelli che sono i miei eventi e andare a verificare quale si è verificato prima e quale si è verificato dopo nell'arco temporale e questo è sicuramente un grandissimo un grandissimo strumento che va sicuramente implementato nelle aziende intanto perché serve lo richiede anche il GDPR avere un SIEM un sistema che faccia la protezione dell'infrastruttura poi la granularità la si va a definire a seconda della tipologia di business che uno fa però come detto è uno strumento che va sicuramente implementato per mettere in sicurezza la propria infrastruttura Simone sei stato super esaustivo siamo riusciti finalmente a vedere sul campo un prodotto che piace a te ma piace tantissimo anche a me però purtroppo il nostro tempo a disposizione è terminato e non ci rimane che brindare con la nostra biova quindi direi di prenderla Simone Cin Cin Irene Salute Grazie ancora Irene Grazie Silvio Grazie Simone Appuntamento al prossimo video Grazie ragazzi Ciao 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 Grazie a tutti.